da quando mi porti il straccarico? e che arriva qui la cosa? e non ti sbottone niente ma se non ti puoi spostare un po' così ma se si a tutti e vivo ancora? ma se non è fai 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 Buonawright quando hai dato? devo lavorare ci ti hanno mettita sotto le sacchette 4 o 5 ora in finale adesso hai scelto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti